Ah! 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 Eh! Buon amistante a tutti ragazzi, bentornati su Luigi's Mansion 3. Rientriamo immediatamente nel nostro ascensore dal piano B1 al piano 15. Ragazzi, ci siamo. Siamo all'ultimo piano. Non mi sembra vero che tutto questo ascensore abbia tutti i pulsanti. Attico! Quasi nemmeno ci arrivava Luigi ad arrivarci. Non ci arrivava ad arrivarci? Non lo so ragazzi, ho già fatto 4 ore di live credo e voglio finirlo perché sono troppo curioso. Sono allo stesso tempo anche un po' stanco ma, ma, sono troppo curioso. Quindi stanchezza e curiosità stanno lottando in questo momento dentro di me. Allora. Luigi, hai fatto già più di 15 piani, quindi vai tranquillo. Cioè. Ok. Belli questi. Questo arredamento molto carino. L'arredamento di Rebu. Ascensore se n'è andato. Ok. Sotto c'è qualcosa. Ok. L'avevo visto bene. Faccio soliti check. E vediamo... Mmm... Un cinema, un lounge. Attenzione. Che succede? Eccola! Eccola! Non pensavi che fossi già qua? Come faccio ad avere del personale così incapace? Luigi non avrebbe mai dovuto arrivare fin lì. Forse ho sottovalutato te e quel professore, forse. Complimenti per essere arrivato fin qui, ma ciò non significa che tu abbia vinto. No, lo so bene. Ok. Vamos. Dopo averti catturato ti offrirò il Rebu e lui mi adorerà per questo. In fondo è andato tutto per il verso giusto. Se ti fossi messo un fiocco in testa come un pacchetto regalo sarebbe stato perfetto. Ah. Fofu. Ma 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 Mario? Luigi. Se vuoi salvare Mario dovrai trovarmi. E va. Ok. Mario. Mario. Ok. Hai visto? Era tuo fratello? Eh sì. Ok. È giunto il momento che l'affronti e la sconfiggo una volta per tutte. Trovala e salva Mario. Let's go. Questo è il nostro obiettivo del giorno. Intanto ti scombino un pochettino la tua lounge. Poi vedo che c'è qui questo. Si comincia subito bene. Vai gommi Luigi. No. Ok. 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 L'ultimo non so come prenderlo. Devo salire là sopra? No. Ok. Però ho già visto che c'è un tubo verde da questa parte. Lingotto magari ce lo pigliamo. E andiamo. Ok. Prendiamo anche un po' di queste monetine. Vai così. E pigliamo anche questo. Vai. Ah. Eh ma da quest'altra parte probabilmente c'è l'altro. Allora vediamo un po'. Vediamo un po' qui che cosa c'è. C'è un giardino zen. Io adesso glielo rovino tutto. Tiè. Lo rovino tutto. Chi non ha una vasca di sabbia all'interno di casa propria? Però oltre a questo non c'è nulla. Oltre al topo. No. Non questo. Proviamo così. Proviamo qua. Allora. 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 Ma questo c'era? Mi sono girato un attimo. Ok. È nato un albero. Ok. Andiamo a vedere dall'altro lato che c'era un altro tubo verde. Uh. Lì c'è un collezionabile. Che bello. Hanno la figura del Rebù. Ok. Andiamo a prenderci tutte queste. Ok. Però non c'è nient'altro qui. Oh. C'è qualcosa qui. Preso. Apri. Prendi tutto. Prendi tutto. Prendi tutto. Ok. Ok. Allora. Oh. Ah. Ecco come si faceva a prendere questo. Perfetto. Prima collezionabile. Prima gemma. Allora. Lui qua sopra. Cosa mi butto? Aha. Aha. Bravissimo Gommi Luigi. Andiamo. Quell'albero lì non so a che cosa serve onestamente. Quindi andiamo avanti. Ho preso già il collezionabile. Ho aperto la porta. Tutto ok. Tutto regolare. Allora. Lui mi guarderà sicuro infatti. No eh. Ok dai. Questo. Ci sono tanti oggetti che sembrano di valore. Gira. Gira. Uh. Aspetta. Forse deve. L'ombra deve essere identica. Secondo me c'entra l'ombra. Che deve. Uh. Ok. Non si muoveva del legame. Ah. Ok. Qui c'è questo. Eh. Ok. L'ho visto. Ecco. Ok. Eh. Ma. L'avevo visto ma. Via qua. Via via via. Via via. Vai. Ben. Bla 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 bla. Ma forse devo fare. Ah. Ma la statua è a forma di. Guardate. La statua è pure a forma di Luigi. Aspetta. Aspetta. Ok. Ah. Pensavo di doverla fare io. Ma era sempre la statua a forma di Luigi. Ok. La statua è un misto tra un Rebù e Luigi. Eh. L'ho visto con l'angolazione. Diversa. Ok. Proviamo a entrare qui una volta che abbiamo sbloccato questa porta. E vabbè. Ok. Lì c'è la super mega chiave. A quanto pare. Dobbiamo andare lì. Aia. Attento Luigi. Questo posto è pieno di laser. Laser invisibili. Ok. C'è dalla polvere a terra. Con il suo balto dove sollevarla con un po' di tempo e individuare i laser. Ok. Grande strambi. Ah. Vai 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 vai. Mission impossible. Eh ma qua. Credo mi serva qualcosa. Un gommi Luigi. Possibile. Proviamo. No. Ok. Eh qui è impossibile. Vai 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 vai. Ok. Proviamo a scendere. No. Ok. Andiamo qui. Sì. Non so come far a entrare però ok. Intanto ci pigliamo quello. Ok. Uh qua con il drift sarà un po' difficile. Credo che io debba andare adesso. Fermarmi. No. No 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 no. Non devo fermarmi. Ok. Devo fare tutto di fila. Vai 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 vai. Yes. E qui? BAM. Oh sì. Sì. Proprio così. Got it. Ok. Perfetto. E qui posso entrare così facilmente. Va bene. Nel frattempo c'è il motivetto principale. Na 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 na. Una torta. Un fantasma che mangia la torta. E il fantasma adorato che ha finito la torta. Vieni qua. Sapevo che la conclusione sarebbe stata questa. BAM. 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 E ancora BAM. No. Vai 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 vai. Prendilo prendilo prendilo. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Così si fa Luigi. Oh yeah. Ok. Andiamo nell'altra sala che c'erano quei... Topini. Dorati. Ah no. Non posso andare da qua. Hmm. Qui però c'è qualcosa. Perché fa questa luce strana? Ok. Proviamo a toglierlo. Vai. Ok. Ecco perché. Ah. Mi stanno facendo compagnia quei topi nel frattempo. Ok. Prendi tutto. Prendi tutto. Ok. Prendiamo anche questo. Pananana. Ok. Possiamo risalire. Andiamoci a prendere la chiave. Ah ma ci vogliono quattro chiavi. Guardate in alto accanto ai quattro ossi. Alle quattro ossa che ho. E questa qui era la terza. Ok. Ah va bene. Ok. Ci sono quattro sale. All'interno della mappa. Che succede? Che succede qui? Uh. Aia. Dove sono andati? Di là. No. Ah. Mi ha spostato praticamente. Ok. Vai. Era ovvio che qua ci fossero degli spettri. eh. Prendiamoci di mezzo anche loro. Dai 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 dai. Dai dallo specchio non sto vedendo ancora quello rosso. Ok. No. No. Eccolo. Eh però così non lo posso prendere. Si è incastrato nel muro. Vieni qua. Uh. Sei andato? Andato da quel lato. Oh eccolo. Vai. Vai vai. Gira gira. Vai gira. Prendilo. Ci sono quelli gialli che. Yeah. Aia. Quanto male. No. No. Ok. 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 Meglio prima quelli gialli. Meglio prima quelli gialli. Yeah. Uno due. Evviva. Evviva così. C'avevo anche la mappa aperta grande. Ok. Mi hanno fatto un bel po' di male devo dire. Non ci voleva. Non ci voleva. Ah. Anche tra gli egizi c'era il king. C'era il king. E anche lei. No. Il gatto no. Il gatto no. Please. Ok. Qui c'è la porta. Prendi lì. Prendi lì. Bene. E via. Ah. Con il camino. Spegniamo questo fuoco che lì ci può andare... Gommi. 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 Vai. Ok. Perfetto. Ho trovato la seconda chiave? No. No. Cioè mi è spuntata la chiave sopra di me però non credo che... Che io abbia trovato la seconda chiave perché non c'è lì sopra. Mmm. Va bene. Io intanto tolgo tutte queste cose. E proviamo di qua. Proviamo a soffiare su questo. Addirittura. Ah ma continua a ruotare. Aspetta. Aspetta. No. No. Vai. 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 Ti ho detto. Vabbè. Vediamo questo cos'è. Ah. Oh no. Oh no. Si sta avvicinando. Aiuto. Jump scare. Eh lo sapevo. Dov'è? Eccolo. Vai. Vai 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 vai. Vai. Vai ancora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Perfetto. Ok. Stanza ripulito. Visto che c'era anche la chiave lì. Quindi magari riusciamo a ottenerla. Chi lo sa. Vai. Soffia. Soffia. Soffia soffia soffia. Vai era uno dopo. Vai 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 vai. Sì così 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 così. Aia. Ah ok. Mi serviva l'interruttore. Che avevo pure visto. Avevo pure visto l'interruttore. Giro ancora. Ok. Divani. Interruttore. Ok. Ho capito. Ho capito. Mi serve gommi Luigi dall'altro lato. Vai così. Vai gommi. Mi serve gommi Luigi qua. Ah mi spunta la chiave lì però. Non so per quale motivo. Ok. Ok. Basta. 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 Ok. Ok. Bye bye. Ah sono cascato. Pensavo ci fossero le scale lì. Ah no. Dovevo fare il giro da qua. Ok. Ho perso un po' di vita. Ah beh dai. Erano due metri. Di meno. Ah. Forse qua sotto si cade nel più profondo rosso. Proviamo a togliere questo. Ok. Ci vediamo anche questo. Ok. Forse era meglio lasciare il gommi Luigi dall'altro lato sempre. Eh. Lo sono dimenticato. Lasciamo il gommi Luigi dall'altro lato. Vai. Non so perché. Però potrebbe servirmi. Vai. Gira. 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 Ok. Gira. 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 Gira ancora. Ed eccola qua. Forse non mi serve. Ok. Seconda chiave. Seconda chiave. Da questa parte c'era un lingotto però. Ecco perché mi serviva. Due chiavi su quattro. Che succede? Il gatto. Allora. Vediamo un po'. C'è qualcosa qui? Ok. Prendili. Tutto regolare. Ok. No, 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 no. Gira. Vediamo se c'è qualche altra cosa qui. Nope. Ok. Allora. Qui ci sono le altre due stanze. Ok. Lì c'è il Rebu. Che ha bisogno delle quattro chiavi. Vabbè. Non ci sarà molto di più qua. Va bene. Iniziamo andando a prendere le altre due chiavi che ci restano. E andiamo. Ah, intanto qui. Perfetto. Dunque c'è da dire che noi non ci facciamo problemi a rubargli tutti i suoi tesori. Ma guarda quanto sono romantici tutti e due. Guardali. Vabbè. Uniti da un solo scopo. Ovvero eliminarci. Andiamo? Vai. Camera da letto. Qua c'è qualcosa che si è mosso. Ok. Prendiamoci il cuore. Importantissimo. Interagiamo. Cuore. Va bene. Qui forse c'è qualcosa. Posso interagire? No? No. Uff. Non me ne ero accorto. Cioè, non lo sapevo. Intanto li togliamo pure questo. Ah, ok. Pam. Io andrei anche dall'altra parte prima. Togli di... Cioè, le... Le ciabattine. Le ciabattine del reboot. Via. Insieme. Oh yeah. Mmm. 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 Ok. Uuuuh. Aiuto, 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 aiuto. Sono morto. Meglio iniziare a provarci con... Guigi. Vediamo se lui lo posso spostare. No. Ma questo cosa a che serve? Non lo so. Però. Ok. Se io faccio così, si sposta da quel lato. Io ci vado con Guigi, con Gommiluigi, perché... Ok. Allora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. No. Sali, 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 sali. Ok. Va bene. Premi quel coso. Dimmi che si spegne tutto. Ahah. Oh yeah. Ok. Andiamo. Sali, 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 sali. Guigi non pesa quanto Luigi, a quanto pare. Ok. Va bene. Allora, sì, io faccio però così. Bilancio. Bilancio. Vai. Sali, sali, sali. Vai. Dai, sali ancora un po'. Là c'è anche il collezionabile, comunque. E ci può andare solo gommi Luigi. Quindi andiamoci con lui direttamente. Vai. Sali, 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 sali. Ok. Devo toglierli. E devo pensare anche a questo. Ok. Vai, 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 vai. No, 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 no. Ho perso troppo tempo. Ho perso troppo tempo. Ah. Ah. Come l'ho salvato, come l'ho salvato, come l'ho salvato. Come l'ho salvato. Sali ancora. Sali ancora. Vai, 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 vai. Mamma mia, che save. Che salvataggio, ragazzi. Bene. Allora, per evitare qualsiasi cosa, io faccio... Intanto... No, 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 no. Salta. Salta Luigi. Salta gommi. Salta gommi. Salta gommi, salta gommi, salta gommi. Vabbè, lui... Ok. Ok. Ci sta. Ci sta. Va bene. Allora, facciamo così. Vai. Però tu devi andare velocemente. Però tu devi andare velocemente. Ok. Piano, piano, piano. Ok. Se sto fermo, riscende. E via! Più veloci della luce. Ok. Qua continuano a scendere i ragnetti dorati, ma... Ok. Se ti avvicini, ci sta. Se ti avvicini, sono contento. Ok. Se ti avvicini, va benissimo. Via! Ok. Ok. Ok, me l'aspettavo. Me l'aspettavo anche prima, in realtà. Quello viola. È quello viola. È quello viola, sicuro. Il maledetto. Aiuto. È il gatto. Ancora peggio. Ah no. Ok. Ma hanno portato i rinforzi. Ma sono tutti tipi. Non so se devo scappare, in realtà. Wow. Aia, via. Allora, facciamo così. Ne devo prendere almeno uno. No, 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 no. Vai, 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 vai. E poi devi sbatterli contro tutti quanti gli altri. Contro tutti gli altri. Contro tutti gli altri. Ok. Ok. Vai, via, 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 via. Via, così, 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 così. Vai, 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 vai. Addosso a tutti quanti. Addosso a tutti quanti. Vai, 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 vai. Ok. Dammi gli occhiali. Sono belli. Tu mi stavi dando un colpo, eh? Ok. Cosa stiamo facendo? Una devastazione. Vieni qua. Vieni qua anche tu. Ok, devo allontanarmi un po' da quello. Vieni qua. E' l'ultimo. E' davvero l'ultimo. Uno. Wow. Ok. Ok. Molto bene. Vediamo se qua abbiamo altri tesori che ci hanno lasciato. No. Wow. Ragazzi, siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Allora, io ho notato però che se faccio questo salto... Vabbè, andiamo avanti. Comunque, quelle statuine con il mini Rebu, se si fa il balzo, saltano in aria e danno i tesori. Però per adesso andiamo avanti. Venite qua. Ok. Scusate un attimo. Un attimo soltanto, eh. Eh, io ti avevo visto qui. Eh, una volta che ti ho visto, non mi sfuggi, perché... Poi me lo dimentico. Bam! Ok. Manca ancora una chiave. Ok. Vediamo se qui c'è ancora qualcos'altro. No. Manca una chiave. E c'è una stanza. Quindi, andiamo. Andiamo qui. Salvataggio. Ok, è lì la chiave. Va bene. Ok. Aia! Forse ho capito. Qua mi sa che non posso andare. Ok. Allora, credo di aver capito. Vai di là. Ok. Eh, sono stato troppo lento. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Vai! No, per poco! Vabbè, comunque, sono passato. Sono passato. Sì, vabbè. Aiuto. Ok. Vai, vai. Ok. Uh! Togliamo questo. Ok. E andiamo con gommi. Tu resta qua. Ho già poca vita, eh. Spero di trovare qualche cuore qui in mezzo. Vieni qua. Sì! Torno indietro. Dammi il cuore. Ok. Ok. No, di qua. Di qua. No. No. Ok. Ce l'ho fatto. Ok. Molto bene. Molto bene. Da qua si può scendere? Sì che si può scendere. C'è anche il collezionabile. E pigliamolo questo collezionabile, però. Ah! Ho capito. Di qua. Salve. Ci sei passato attraverso. Bene. Collezionabile preso. Abbiamo ripristinato anche un po' di vita. Possiamo ritornare in superficie. Ci sono altri due saltini da fare. Ok. Andiamo il più avanti possibile. No. No. No, questo salto. Meglio. Ok. Va bene così. Cheat. Va bene così. Va benissimo così. Come se l'avessi... Capito il tempismo giusto. No, devo andare dall'altro lato. Ok. Voi non vi siete accorti di niente. Io ho passato... Questi laser in maniera corretta. Infatti ho 99 di vita. Mica qualcuno. Ha la carta igienica con i soldi. Veramente? E io me li piglio tutti. Pure il rotolo di cartone. Ok. Yes. Ok. Chiave. Mettiamogli un pochettino d'acqua così magari esce. In qualche modo devo uscire. O spingo. O tiro. No. Spingo. Forse tutti e due. No. Bastava uno. Però non si faceva. Non so perché. Signori. Ultima chiave. Ottenuta. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ci. Siamo. Stanza del boss. Sbloccata. Quasi. Non lo so. Se ancora c'è qualche sorpresa. Ma non ci sarà solamente un boss. Ne saranno due. Più. Queste sorprese. Pure. Ok. Qualcuno anche sopra? No? Ok. Iniziamo di qua. Uh. Sono già qui. Bam. Ok. Ce n'era tipo uno che me ne era sfuggito. Via di qua. Ok. Io mi piglio pure questi. Uh. Ci sono anche quelli grossi. Via. 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 E vabbè. Ma c'è tutto qui. Vai. Ok. Vieni qua. Vieni qua. No. Per una volta l'ho saltato. Incredibile. Bam. 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 È un po' difficile. Devo dire che è un po' difficile. Uno. Due. Pure. Ok. Andiamo di qua. No. 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 Venite qua. Venite qua. Tutti quanti. Venite qua. Sì. Venite qua. Vai così. Ok. No. Tutti qui. Ok. Rimane ancora quello rosso. L'avevo visto di qua. Eccolo. No. Aia. Ah pure lui. Mi fa l'attacco dove devo saltare. Vai. Vai. Bam. Ne manca ancora qualcuno. Ah no. Ok. Uh. Uh. Vai. Allora. Ci siamo? Quattro chiavi. Quattro fessure. Per le chiavi. Andiamo. Ah ah. Una. Oh. Ne ho un'altra. Due. Ah ah. Oh yeah. Ne ho pure un'altra. Nel frattempo lui aveva tutte queste chiavi pesantissime. Tutti addosso. Beh c'è anche l'ultima. E. Quattro. Complimenti. Ok. Però è figa una porta così eh. Una porta così è veramente bella. Quella scritta salvataggio che al momento è dietro di me è bellissima. Signori. Eccoci. Beh beh posso fare tipo un salvataggio extra non lo so. Vabbè andiamo. Eccoci qui. Hello. Ok. Eh come ti permetti. Sì esatto. Adesso sì che ragioniamo. Ok. Adesso sì che ragioniamo veramente. Oh mio Dio. Ti facevo più bella. E invece. Eh invece invece. Ho perso tutto a causa tua. Mi sa che comincia la sfida? Ah. Punta così quindi te la fantasmi. Vogliamo iniziare? Dovrò occuparmi io di te. In questo modo Rebu si fiderà nuovamente di me e si renderà conto di quanto possa esservi utile. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Allora. Cerchiamo di capire come ci attacca. Cerchiamo di capire come attaccarla a noi. Ok. Intanto già se n'è andata. Non mi posso ancora muovere. Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Penso lo saltassi di nuovo. Ok. E adesso? Vai conmi Luigi. Aiuto. No. Ah. Ok. Devo veramente andare di qua. Provo ad andare qua. Ah. No vabbè. Ma di che cosa stiamo parlando? Come faccio ad andare? Ah. Ok. Posso fare qua? Vai. Ok. E il giallo l'ho fatto. Posso fare anche l'arancione? Fai l'arancione. Fai l'arancione. Aspetta. Ok. Ah. Ok. Via via via. Ok. Pensavo di nuovo facessi due volte. Aiuto. Aiuto. Allora. Intanto togliamo l'arancione. Sono tutti con modalità diverse. Ok. Poi. Posso passare di qua per il blu. Vai col blu. Tolto pure il blu. Oh. Ci sono io qua. Aiuto. Prendila. Prendila. Vai. Mi serve. Mi serve. Mi serve. Mi serve. Mi serve. Mi serve anche il viola. Ok. Vai qua. Spostati. Spostati. Vai qua. Vai qua. Vai qua. Ferma qua. Vieni qua. Mi riflette pure. Oh. Via. Via 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 via. Vai. Ora abbiamo tutto lo spazio e il tempo per giocare noi due. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Molto bene. Sei tornata bruttina eh. Ok. Che serve quello? Ah. Mi dà un cuore. Ok. Ok. Secondo me adesso fa qualcosa in più di prima. Oh. Wow. Gira. Gira. No. Aiuto. Da dove? Da dove? Ok. Vai 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 vai. Ok. Ok. Uh. Allora. Intanto iniziamo col viola. No. Il viola. Prendilo. Prendilo. No. No 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 no. Ok. Non la riuscirò mai a prendere. Non così poco spazio. Infatti. Devo utilizzare di nuovo gommi Luigi. Vai. Vai 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 vai. Devo tenere un occhio sopra e uno sotto. Vai vai vai. Tira. Perfetto. Vai. Andiamo avanti. Vai di qua. Andiamo a togliere anche questo. E l'arancione. Ok. Vai. Poi. Via. Via. Vai. Ok. Vai così. Ok. E andiamo l'ultimo. L'azzurro. Via. Scappa. Scappa Luigi. Ok. Vai. Ok. Ci siamo. Salve. Vieni qua. Dammi un bel colpetto qui. Vieni. Vieni qua. Ehi. Ehi. Sono qui? Luigi time. Bam. Vieni qua. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ok. Vediamo un po' che succede adesso. Aiuto. Sicuramente adesso farà ancora più cose. Aia. Wow. Wow. Ok. Va dall'altro lato. Vai. Ah. Aiuto. Ok. L'aria accesi. L'aria accesi. Vai. Spostati. Vai da questa parte. Vai di qua. Uh. Ha buttato pure l'acqua sotto. Come ha fatto? Ah. Un po' a tempo diciamo. Ok. Piam. Vai. Gombi Luigi. Scendi. Vai di qua. Non ho molto tempo. Vai. Così. Ok. Ok. Vai di qua. Oh. Me l'ha staccato. A dirmi che ora devo ricominciare. Ho preso un po' di tempo. Ok. Da dove? Da dove? Da dove? Di qua. Di qua. Ok. Da dove? Ok. Da questa parte. Vai Luigi. Ora forse va dall'altro. È inchietrito. Ok. Ok. Vai. Uno. Ok. 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 Ora a questo punto. Mi conviene dall'altro lato. Mi conviene che lei mi colpisca qua. Vai. Colpisci. Vai qua. Vai 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 vai. L'ha riacceso? No. L'ha riacceso. Vai 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 vai. Prendilo 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 prendilo. Vai. E' gommi Luigi è andato. Ok. Vediamo un po'. Vediamo se con uno ci riesco. Vediamo. No no no. Dai. Sì. Sì 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 sì. Dai. Un po'. Un po'. Un po'. Vai. Ok. Ok. Ha ripristinato pure quello. Vai giù. Ok. Vai di qua. Sposta Luigi. Sposta Luigi. C'è anche il giallo. Vai 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 con il giallo. Sposta un po'. Luigi. Vai di qua. Vai di qua. È molto impegnativo. Bam. No. Ha riacceso l'altro. Ha riacceso l'altro. Peccato. Ha riacceso l'altro. No. E risaliamo. Ha riacceso l'azzurro. Vai 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 vai. No. Vai di qua. Eh. Ve l'avevo notato proprio alla fine. Vai. No. Non ce l'ho fatta. Via. Vai. Vai 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 vai. Dai che forse ci riesco. Uno. Due. Sì. Yes. 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 Uh. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Uh. Che lotta. Che lotta che ho fatto. Andiamo a salvare Mario. Non ci credo. Che lotta che ho fatto. Uh. Mario. Mario. Eccolo. Oh. Oh yeah. Yeah. Way to go. Ce l'abbiamo fatta. Manca solamente Peach. Manca solo Peach. Come on. This way. Come on. Let's go. Manca Peach. Oh yeah. Haha. Che forza Mario. Sì però non ti fa prendere di nuovo. Mario. Ok. Ok. Adesso non abbiamo più paura eh. Ok. Allora. Da questa parte ho visto che si può fare così. Ok. Uh. Prima parte del boss finale fatta. Ragazzi. Ora non puoi più tornare indietro. Uh. Uh. Uh.